Archiviata la bella vittoria su Mondovì, il volo del Soverrato è già proiettato alla trasferta di domenica prossima contro Baronissi, una squadra che conosce già abbastanza, la squadra di coach Barbieri che ha i nostri microfoni per averla affrontata diverse volte in precampionato. Sarà una partita anche questa difficile ed importante, il Soverrato vorrà sicuramente proseguire su questa bella striscia in anellata all'inizio stagione? Sì, loro hanno fatto degli ottimi risultati, soprattutto in casa e perciò siamo coscienti che non sarà facile, è una squadra molto molto forte in battuta, forse una delle migliori del campionato, perciò è innegabile dirlo che la linea dei nostri recettori o comunque la nostra recettazione avrà una funzione molto molto importante. Analizzando a mente fredda la vittoria con Mondovì, quale sono le impressioni di coach Barbieri? I segnali sono sicuramente incoraggianti, di progresso, domenica però potrebbe essere tra virgolette una prova del nove, visto che Baronissi soprattutto in casa è una squadra molto ostica. Sì, per quanto riguarda la partita di ieri devo dire che siamo contenti perché siamo cresciuti nel gioco di squadra, a Brescia avevamo vissuto un po' più sull'individualità, invece qua come abbiamo visto la distribuzione è stata più equa sugli attaccanti e come abbiamo già detto i centrali sono entrati in gioco parecchie volte con ottimi risultati, perciò vuol dire che il gioco diventa un pochettino più corale. Abbiamo già detto che sarà dura, lo sappiamo, è un campo molto difficile come tanti altri ma lo andiamo a affrontare con qualche certezza in più rispetto a qualche settimana fa. Alla luce anche dei risultati maturati nel turno infrasettimanale, ci sono adesso dopo tre giornate quattro squadre in testa con otto punti tra cui il Soverato, indice del fatto che quello che si diceva ad inizio stagione si sta già verificando perché veramente ogni domenica c'è incertezza su tutti i campi e i risultati di ieri lo testimoniano. Sì, adesso è un po' presto per guardare la classifica perché con una vittoria o una sconfitta si passa dal primo all'ottavo posto, perciò non è il momento di guardare la classifica, è il momento di guardare il gioco. Il piccolo problema che abbiamo è che giocando di mercoledì facciamo fatica ad allenarsi e noi ne abbiamo molto bisogno, però è una cosa che si sapeva dall'inizio, perciò andiamo comunque, abbiamo usato anche le partite, le partite per migliorare gli automatismi, penso che si siano visti e sicuramente sarà una grande partita. Valeria Millesimo è uno dei tanti volti nuovi del Valle Soverato 2017-2018, dopo tre anni a Cuneo culminati con la promozione in A2, arriva in A2, arriva però con il Valle Soverato, un'esperienza nuova, sono passati i primi due mesi di questa tua permanenza qui, innanzitutto un giudizio, sin qui le tue sensazioni su questa nuova squadra, nuova società, nuovo ambiente? Sì, sono nuova Soverato, mi trovo molto bene, ovviamente molto emozionata di giocare qui in un palazzetto molto caldo, con un tifo spettacolare che non molla mai e sono molto contenta anche agli elementi così e con la squadra, mi trovo molto bene. Un giudizio su queste prime tre gare di campionato, sono arrivate tre vittorie, domenica si va a Baronissi, una trasferta difficile contro una squadra che voi conoscete già abbastanza per averla affrontata più volte nel pre-campionato. Sì, Salerno nel pre-campionato l'abbiamo incontrata parecchie volte, quindi già la conosciamo abbastanza e loro ci conoscono. Abbiamo avuto modo di giocare queste tre gare, le prime di campionato, le prime un po' titubanti nel primo 3-2 con Collegno, però stiamo lavorando bene in palestra, infatti i risultati si stanno vedendo, infatti anche ieri sera è stata una bella vittoria, siamo molto contenti. Infine, essendo la tua prima stagione in Serie 2, cosa ti aspetti da questo campionato, non solo per quanto riguarda la squadra, ma anche per quanto riguarda la tua situazione personale? Io mi aspetto da me stessa una crescita, sono venuta apposta qua anche parlando con l'allenatore, io mi aspetto di crescere tanto e come squadra far bene il playoff e poi si vedrà.